La mascherata che presento al carnevale di quest'anno dell'edizione 2023 è intitolata agli anglicani. Racconta di un esercito che scende dall'Inghilterra e capitanato dalla regina di un esercito di cani che viene al carnevale di Viareggio per festeggiare il centocinquantesimo del carnevale di Viareggio. Composta da sei cani e la regina davanti chiaramente è più tutto corteo di maschere. Allora quest'anno siete comunque tutti invitati al carnevale di Viareggio che festeggerà il suo centocinquantesimo compleanno.